Ma perché la banca impegna tanto capitale e tante risorse nella vendita di questi missili? È un test. Le armi leggere sono le uniche usate nel 99% dei conflitti mondiali. E nessuno ha la capacità di fabbricarle in modo più veloce e a prezzo migliore della Cina. Il fine che Scarsen sta perseguendo è quello di fare dell'IBBC l'unico broker delle armi leggere cinesi vendute nel terzo mondo. E i missili sono la transazione di entrata. Sì, ma miliardi di dollari investiti solo per fare il broker? Non ci può essere tanto guadagno per lui? No. Figuriamoci se mirano a guadagnare dalla vendita di armi. Mirano al controllo. Controllo del flusso di armi? Controllo del conflitto? No. No, no. L'IBBC è una banca. Il loro obiettivo non è il controllo del conflitto. È il controllo del debito che il conflitto produce. Vedete, il grande valore di un conflitto, il vero valore, sta nel debito che genera. Se controlli il debito, controlli tutto quanto. Voi lo trovate inquietante, vero? Ma è questa la vera essenza dell'industria bancaria. Fare di tutti noi, sia che siamo nazioni o individui, schiavi del debito. Grazie.